La dinastia dei Flavi non durò molto ma stabilì un punto di svolta importantissimo nella storia romana perché rappresentò il superamento non solo della dinastia Giulio-Claudia ma del fatto che un princeps dovesse essere nobile. Nerone nel 67 muore facendo succedere da uno schiavo e tacito lo storico di questo periodo al quale anche i Flavi stavano profondamente antipatici osserva come non ebbe nemmeno il coraggio di uccidersi lui per esempio come fece Antonio con Pleopatra. I Flavi e Vespasiano, il suo iniziatore, vanno al potere in un anno drammatico, il 68, l'anno dei quattro imperatori. I primi tre, Otone, Galba e Viteglio, che si uccisero uno con l'altro, governarono tre mesi l'uno e furono capaci solo di saccheggiare le finanze dell'Erarium romano. Chi successe a Viteglio, come poi ci informa Tacito, fu Vespasiano. Chi era Vespasiano? Un militare d'animo, oltre che di professione. era italico, nato in Sabina, quindi non era nobile. E questa è una cosa importante. Non vantava origini divine e alla fine possiamo dire che considerava il Senato un po' come una sua legione da comandare. Tanto è vero che tra i provvedimenti più importanti fece approvare la Lex dei Imperi Vespasiani, la legge sul potere che doveva avere lui, Vespasiano, che gli dava pieni poteri per risanare prima di tutto un'economia mandata in pezzi dai principes precedenti e l'esercito che era in uno stato di sfaldamento. Chi era Vespasiano? Questo signore è qui. Il ritratto dovrebbe essere somigliante, ma non è dato di saperlo come nella ritrattistica del mondo antico. Ecco, qui si vede meglio, diciamo, come impostazione di figura. Anche lui ha il vestito del soldato con la fibula che lo tiene e un'espressione piuttosto volitiva. Sono dei personaggi importantissimi nella storia di Roma perché cambiano proprio direzione. alla conduzione di quello che ormai chiamiamo Impero. Cosa va Vespasiano? Compia un gigantesco riassetto sociale ed economico dello Stato romano. Ricordiamo che sotto Nerone la congiura dei Pisoni aveva decimato la classe dirigente. Riconsolida l'esercito. Vespasiano è un militare, un militare nell'animo, diremmo oggi nel DNA oltre che nei metodi. amatissimo dai soldati perché era anche un grande generale, dal Senato un po' meno, perché gli tolse molti poteri. Mandò il figlio Tito a pacificare Gerusalemme e il figlio la distrusse. Nel 70 d.C. distrugge definitivamente Gerusalemme e da lì inizia la diaspora. Distrugge ovviamente anche il Tempio di Salomone di cui tutt'oggi rimangono il muro del pianto e la spianata. Inizia la diaspora degli ebrei e viene consolidata la cosiddetta figura dell'ebreo errante. Fu molto mal giudicato dai posteri, sempre perché tacito, così come fece con Nerone, ne diede un ritratto abbastanza negativo, autoritario e questo lo era, ma disse che era molto, anche molto, molto avaro, soprattutto con i suoi funzionari. Legata a una circostanza anche abbastanza feroce, mise una tassa sui bagni pubblici e allora i cittadini romani con la lingua all'acido solforico che li contraddistingue tuttora chiamarono i bagni pubblici le latrine i Vespasiani e il nome è rimasto tuttora. Di fatto, qual è la verità storica? Vespasiano si trovò in undici anni di Principatus a dover consolidare uno Stato in pezzi con un'economia altrettanto sbaldata e un esercito che sfuggiva da tutte le parti. Quindi dovette ricompattare tutto. Ecco, noi lo ricordiamo anche perché il figlio Tito nel 70 d.C. distrugge Gerusalemme. Come disse uno storico successivo ai Romani, per creare la pace fecero il deserto. Frase terrificante ma vera. E veniamo a Tito. L'imperatore Princeps dal 79 all'81 governa a due anni, ha un buon rapporto col Senato e con i pretoriani, prosegue la linea del padre. Sotto il suo regno, proprio nell'anno 79, ovviamente il Vesuvio erutta e distrugge Ercolano, Pompei e Stabia. E molti storici, antichi, sia giudei che cristiani, interpretarono la distruzione di uno dei poli economici dei domini di Roma come la punizione divina per la distruzione di Gerusalemme. Ne parla anche Flavio Giuseppe, uno storico ebreo naturalizzato cittadino romano. C'è da dire che Vespasiano designò i due fratelli, Tito e Domiziano, coregnanti. Tito si limitò a seguire le forme del padre. Chi invece provocò grandi problemi al Senato fu Domiziano. Vediamo un attimo, torniamo indietro e vediamo delle immagini di Tito. Ecco, questo era Tito. Non si riesce a ingrandire, ma ti capisci? E' stato ritratto in maniera molto somigliante al padre. Di Tito abbiamo conservato l'arco trionfale. Ecco, l'arco di Tito proprio realizzato in occasione della vittoria in Giudea e nel freggio interno c'è questa immagine che è una delle più famose al mondo perché si vede il trionfo dei soldati romani che portano l'arca con le tavole dei dieci comandamenti sorgontata dalla menorà il candelabro a sette bracci. Qui comincia la leggenda dell'arca quella di Indiana Jones per capirci, no? Nasce la leggenda che i custodi occulti siano ancora templari. In realtà è servita solo a far guadagnare i produttori dei film. Da questo momento in poi cioè dal 70 dopo Cristo più o meno dell'arca si perdono le tracce. Nessuno sa dove sia finita e chiaramente la fantasia popolare non si è scatenata nei modi più differenti. Questo è uno degli ultimi documenti certi i soldati romani che portano l'arca che contiene le tavole della legge mosaica sormontata dalla menorà candelabra a sette bracci. Morto Tito il governo ha due anni poco il successo è il fratello Domiziano che purtroppo per il senato aveva come riferimento Caligola e Nerone fu un autocrate e con lui cominciarono i primi conflitti con i cristiani per un motivo semplicissimo avendo come modello un sovrano di stampo orientale tendeva ad essere considerato un semidio un po' come il Nerone la statua del Dio Sole alta 35 metri con la faccia di Nerone e questo confliggeva molto con il primo comandamento che dice non harai altro Dio all'infuori di me non harai altro Dio all'infuori di Domiziano cominciarono i primi conflitti non furono persecuzioni come fece Diocleziano nel terzo secolo tra terzo e quarto secolo ma cominciarono diciamo le manovre di ostilità nei confronti di una religione che poteva essere potenzialmente sovversiva in contraddizione con la logica romana del Panteon Roma era aperta a tutti gli dèi perché questi noi cristiani no per questo motivo amato dall'esercito era un grande generale era odiato ovviamente dal senato fu ucciso in una congiura e a questo punto il senato è scogito al sistema del principato adottivo cioè non la successione dinastica di padre in figlio ma il princeps prima di morire adottava chi riteneva degno di quella carica e che possibilmente andasse d'accordo con il senato fu la dinastia che edificò il Colosseo l'anfiteatro Flavio c'è un errore storico che si tramanda da secoli e secoli no? un nerone che fa bruciare i cristiani al Colosseo li fa uccidere non è vero il Colosseo venne reedificato proprio da Vespasiano e da Tito che lo completò sopra la Domus Aurea neroniana quella gigantesca casa di 44.000 metri quadrati espressione della megalomania di Nerone e su questo Tacito aveva ragione ma proprio per dire che il tiranno non c'era più ci fece costruire il complesso monumentale del Colosseo con tutti gli edifici intorno sopra ma al centro però mise il Colosso ecco perché Colosseo era la statua del Dio Sole con la faccia di Nerone con la faccia